Un nuovo chiosco con gazebo, ma anche la sistemazione della casetta dell'educazione stradale che è stata nettamente separata dalla nuova cucina e in arrivo la sostituzione di tutti i giochi partendo dai primi due dei quattro in cui è suddivisa l'area. Sono le novità del parco Gioca Gio di Via Marradi dopo la prolungata chiusura a causa del Covid. Il concessionario, l'associazione culturale Mercanzia, che potrà usare l'area fino al 2026, ha approfittato proprio del periodo di lockdown per effettuare i lavori previsti dall'affidamento per una spesa di circa 60.000 euro. Il secondo lotto consisterà nella realizzazione di un'area pavimentata dove verrà installata una tensostruttura a vela. Gelato, schiacciate, piadine, patatine fritte, hamburger ci sono già, però l'idea era quella di sviluppare una ristorazione adatta al parco, cioè pizzeria, forno a legno, ovviamente una piccola cucina dove possono trascorrere il mezzogiorno per quanto riguarda il periodo media stagione e possono trascorrere invece la sera quando il parco sarà frequentato per la freschezza. Il gioco a gio è uno spazio amatissimo da grandi e piccini, ma per non perdere il suo appeal ha bisogno di cure. Per questo l'amministrazione comunale interverrà nei prossimi mesi con l'installazione di nuove panchine e la sostituzione dei giochi dei primi due quadranti. Già quest'anno noi abbiamo inserito in bilancio un importo di 200.000 euro, avendo il parco suddiviso, avendolo suddiviso in quattro aree tematiche, noi andremo a riqualificare le prime due aree tematiche e speriamo nei prossimi anni, ma io mi auguro già il prossimo bilancio, potremo riuscire quasi a portare a termine la completa riqualificazione.